Oggi andremo a vedere le 5 mappe che devi giocare in questo periodo La prima è sicuramente quella di Barry ragazzi Non vogliamo comprare cose, vogliamo solamente scappare da questo cicciottello vestito da Pasqua Regà, è un coniglio, oh mio Dio Bene, come sappiamo dovremmo fare davvero una roba clamorosa Quindi dobbiamo scappare da questa roba qua Dobbiamo fare un parkour, dobbiamo fare delle robe Però ricordiamoci che l'obiettivo in questa mappa è quello di scappare dal nostro carissimo Barry Che in realtà se posso dirvela tutta non mi fa nemmeno troppo paura con questo aggiornamento Con questa nuova tappa di Pasqua dicevamo Ecco, cioè se lo vedete ragazzi fidatevi che non vi fa paura Cioè adesso ve lo faccio vedere subito perché ci stiamo per arrivare E guardatelo lì, è un coniglietto Ma ragazzi, oh no no no, vai via vai via vai via No, non mi scorreggiaro addosso